Buonasera Pia, buonasera a te, prima ancora buon pomeriggio, stiamo ancora sulla Francigena e ci avviamo verso il Natale e Daniele Persegani ci sta salutando, ma non abbandonando. Ma vediamo adesso. Faremo un contratto a lungo termine per capire quanto tempo possa rimanere presso Gusto Incanto per noi, per noi cioè per l'Uni3 e anche per Fidenza e l'Uni3 che l'hanno adottato. E oggi siamo arrivati non solo verso Natale, ma stiamo arrivando anche verso Roma, però ci fermiamo anche da un'altra parte e facciamo un'altra tappa. Ti vuoi fermare in Piemonte o in Liguria? No, mi fermerei in Piemonte io. Va bene, però con alcune consonanze che possono essere anche Liguri. Ma te trovi le consonanze anche nel Burkina Faso. Assolutamente, perché le dicotomie non mi piacciono. Mi piace individuare quello che accomuna e non quello che divide. Allora, qualcosa della Liguria c'è di influenza. Va bene. Però noi ci fermiamo nel Piemonte e nella fattispecie nella Lomellina, quindi nella zona di produzione proprio del riso, dove c'erano le risaie e dove questi pellegrini riuscivano a mangiare magari anche durante il periodo invernale, ma non solo, una minestra calda e molto anche corroborante. Perché l'ultima volta hanno mangiato e abbiamo mangiato la carbonada con la polenta, ecco per cui oggi passiamo alla panissa. Esatto. Cosa sarà mai questa panissa? È una minestra di riso, borlotti e vino rosso, che solitamente si faceva appunto durante la stagione invernale, con il fagiolo secco, quindi con qualcosa che si potesse conservare per tanto tempo. Quindi il riso, lo sappiamo, è un cereale che viene essiccato, i fagioli anche loro venivano comunque essiccati e duravano per tutto l'inverno. Ovviamente c'era anche un po' di vino rosso perché quello c'era, la vendemmia era già stata fatta e veniva mischiato tutto insieme. Adesso vedremo come. Ecco, l'etimologia in realtà di panissa, che per noi in Emilia non è così nota, ecco sembra che derivi da panicum, che non è il panico, cioè ciò che sovviene quando siamo in una situazione irta di difficoltà, ma dal panicum migliaceum e panicum italicum. Cos'erano il miglio? Prima del riso, a cui lo chef alludeva e che costituirà l'ingrediente fondamentale, com'è di quella zona, anche della panissa, c'era appunto il miglio. Il miglio come base di preparazione per zuppe, per minestre, base di preparazione poi sostituito appunto con il riso o con la farina di ceci. Di questa non ne parliamo, la lasciamo in sospensione perché stiamo avviandoci verso appunto una ricetta piemontese, l'omellina, con il riso. Tuttavia la radice è la stessa, deriva appunto dal miglio, che nella Liguria venne poi sostituita appunto dai ceci, per cui in Piemonte la panissa è un risotto, diversamente in Liguria è una polenta a base di farina di ceci, di acqua e di olio. E che in Sicilia diventa panella. Perfetto, allora ma come mai questa radice unita, che comunque fa riferimento a un cibo poverissimo, come diceva lo chef, ha fatto degli ingredienti a disposizione. Ecco, ricordiamoci che per lungo tempo c'è stata la dominazione dei Savoia, la quale ha unito in primis il Piemonte e la Liguria e peraltro modo, in altri aspetti, tutta l'Italia compresa appunto la Sicilia. E la primogenita, che è Piacenza, è stata la prima città ad essere associata. Certamente, per cui vedete paniccia, panicca, vedete che poi viene declinata nelle varie zone, ma sempre con questa radice, che è il panicum, miglio o ceci. Fermo un attimo i cenni storici, non perché non siano interessanti, ma perché ho un passaggio da spiegare. Allora, ho soffritto lo scalogno tritato con un goccino di olio, ma poca roba, e con la gola, quindi il grasso della gola, che potrebbe essere il lardo, potrebbe essere pancetta, comunque un grasso di maiale, anche addirittura con lardo, non era quello il problema, anzi, erano gli unici grassi che si conservavano durante il periodo invernale, ma non solo, erano gli unici grassi anche di facile reperibilità. Quindi, quando io ho fatto, adesso in questo momento, questo soffrittino qua, metto insieme anche il riso, in questo caso è un carnaroli, appunto perché la produzione della lomellina da risotto è arborio o è carnaroli, mentre invece se ci spostassimo verso le risaie del veronese e del mantovano diventa vielone nano, però sono i risi da risotti, sono i carnaroli e il vielone nano, quelli più vocati. Poi, se avete l'arborio va bene anche quello, però, insomma, diciamo che quelli più ideali sono queste due varietà, tostiamo per bene il riso, in questo modo, cosa vuol dire tostare il riso? Bisogna farlo girare asciutto, in questo modo, stando attenti di non bruciare tutti gli altri ingredienti, molti miei colleghi lo tostano da solo, poi, voglio dire, ci sono diverse scuole di pensiero, non è detta che una sia migliore dell'altra, e poi cosa facciamo? Lo andiamo a sfumare col vino rosso e lo facciamo evaporare per bene, quindi riso tostato, deve diventare vetroso e trasparente, perché questa operazione? Perché tostandolo, essendo un cereale, intanto aumentiamo quello che poi è uno scambio osmosico tra il liquido di cottura e l'amido che esce dal riso, quindi farà una bella crema. Si corrode poi con l'acidità del vino, oltre a dare comunque anche un'acidità gradevole, l'esterno della cariosside, quindi permette ancora di più questo scambio tra il liquido di cottura che entra nel chicco del riso e l'amido che ne fuoriesce. A questo punto vado semplicemente ad aggiungere i borlotti e il concentrato di pomodoro, la pasta di pomodoro, come la chiamavano in quei tempi. Quindi un pomodoro che c'era già, era arrivato, cominciava a essere coltivato, non proprio nel periodo della francigena ma subito dopo e per farlo durare nel tempo veniva fatto bollire e essiccato, cioè veniva fatta questa pasta quasi secca, quasi una polvere, che poi è stata la mamma del concentrato insomma. Aggiungiamo i borlotti, anticamente si aggiungeva anche l'acqua nera che facevano i borlotti, rendendola magari forse all'occhio meno appetibile. Quindi questi sono dei borlotti semplicemente cotti in acqua con poco sale, una punta di concentrato di pomodoro e il brodo. E io qua vado avanti poi a cuocere lasciando la parola per i cenni storici alla nostra Maria Pia. Allora vedete che quanto viene proposto a tutti gli effetti è focalizzato sul riso e sulla sua cultura. Tenendo presente, ritornando alla definizione del piatto di oggi, panissa, panicca, che anche il riso integrale o pilato veniva chiamato paniccio. Quindi anche da questo punto di vista c'è il richiamo. Poi la panissa, in questo caso noi analizziamo oggi la preparazione in Lomellina, con delle piccolissime varianti, veniva proposta in una molteplicità appunto di paesi. nella Lomellina, ecco, poi anche nell'Odigiano e abbiamo paesi la cui cultura ruota intorno proprio alla paniccia. Bruggi, Salogni, Caldirola, Foro Rotondo. In questi luoghi venne importata dalle lavoratrici stagionali. Le mondine, le quali recavano con sé queste cose preziosissime, questi piatti poveri con i quali ci si poteva cibare e trarre anche energia, forza lavoro per tutta la giornata e in condizioni appunto igienico, sanitarie, ma anche lavorative, tucure estremamente complesse. E c'è una sagra che viene celebrata a Lunassi all'inizio appunto di settembre. Tutto su questa preparazione con delle varianti micro, ma che le comunità locali ritengono fondamentali e che danno rilievo appunto anche allo spostamento delle mondine e a ciò che portavano con sé. Tu sai quanto era la paga di una Monda Riso? No, tu sì. Allora nel dopoguerra, subito nel dopoguerra, quindi parliamo del 45, 46, 47, dove serviva tanto cibo per ricostruire l'Italia perché era ovviamente devastata dopo la seconda guerra mondiale, sia non solo a livello territoriale, di città distrutte, bombardate, ma anche devastata a livello proprio di risorse umane. C'erano molte più donne rispetto agli uomini perché o erano morti in guerra, quelli che erano tornati, magari non erano proprio tornati, in grado di lavorare, erano una percentuale molto bassa, quella che era tornata appunto in grado di lavorare e insomma bisognava ricostruirla sta Italia qua. Quindi appunto le donne che facevano le Monda Riso prendevano di paga, dopo 40-45 giorni di lavoro, lavoro nell'acqua perché la pianta del riso ha all'inizio bisogno di tantissima acqua, vi ricordate magari dal film, dal famoso film del riso amaro con Silvana Mangano e Anna Magnani, insomma queste figure, prendevano 1000 lire che erano un gran bel po' di soldi e 40 chili di riso, quindi un chilo di riso al giorno. Quindi oltretutto dopo aver lavorato 40-45 giorni avevi anche un sacco di 45 chili sulle spalle da portarti a casa di riso, che portavano a casa molto volentieri, molto volentieri. Io ti parlo di queste zone perché, vabbè, noi sai qua nella bassa del Po, appunto perché c'era l'acqua e il riso, c'era, non c'era solo il riso ma c'era anche la coltivazione del tabacco. Certamente. Che andava anche quello stagionalmente. E anche del cotone. E del cotone. Cioè di queste colture che ha bisogno di acqua e di risorgiva. Anche la canapa, non solo qui ma anche in un'altra zona italiana bonificata, che è la zona di Latina. Tanto è vero che abbiamo un tipo di riso che si chiama Roma. Perfetto. Che è quello piccolino con il chicco molto tondo che è ideale per le minestre. Quindi minestre brodose perché ha poco amido, quindi non lega le minestre, le lega meno. Intanto qua continua a cuocere. Diciamo che la cottura della panissa, allora una volta mangiava tutti i coti e stracotti, ve lo dico. Perché quello che non era cotto non era considerato sano. Quindi veniva tutto cotto a dismisura, il riso compreso. Quindi forse mangiavano più una crema che neanche un risotto come siamo abituati a mangiarlo noi, magari un pochino al dente oggi. Però calcolate 16 minuti, poi dipende da che varietà di riso utilizzate. Questo è bellissimo, vedete che il riso ritorna e secondo me è anche un piatto benaugurale, perché il riso implicava togliere la fame a coloro che poi potevano averlo e cibarsi. Non è un elemento appunto di secondaria importanza. Poi oggi lo chef ha usato il termine osmosi. In realtà lo usa a scuola, ma non lo usa tanto nei confronti dei media, perché poi quando il codice diventa troppo particolare si rischia l'incomprensione. Fra chi è stato l'osmosi, fra questi ingredienti? Allora, tra il liquido di cottura e l'amido contenuto nel riso. Scambio osmosico vuol dire che c'è una parte meno concentrata che va verso quella più concentrata. Ad esempio, quando voi mettete lo zucchero nella macedonia, tutta quella, la quettina che c'è, va dove c'è la parte, cioè viene estratta e va dove c'è la parte più concentrata e tende a bilanciarsi. Questo qua è proprio questo, insomma, uno scambio tra due componenti, chiamiamole così. Ho detto proprio, non è proprio così, però non voglio neanche fare delle lezioni di chimica, che non è neanche messo un B2A seppai dal meort, quindi voglio dire. Però è giusto dare l'idea come la cultura del cucinare si avvalga di tante discipline, delle quali lo chef è consapevole. Poi a noi quello che arriva sono gli elementi pratici con i quali ci si pone vicino ai fornelli, ma in realtà quando c'è appunto lo chef le indicazioni vengono da molto lontano e poi vengono restituiti con semplicità. Speriamo che siano comprensibili. Che è una cosa bellissima, però l'idea della complessità deve rimanere, mai nulla viene così senza impegno, ma è frutto di una cultura che precedentemente ha elaborato il come e il quale appunto gli ingredienti. Ebbene, chimica e fisica, insomma. Sono fondamentali. Sono chimica e fisica, alla fine le trasformazioni date da agenti come il calore o come il freddo. Adesso gli chiedo una cosa, ma sai che anche in Spagna, io so che ama la Spagna come del resto, io non quanto come la Grecia, ma c'è la panizza. L'hai mangiata tu? Non l'ho mangiata, però so che esiste e non dico che è simile, ma siamo lì. Tanto è vero che in Spagna vengono utilizzate forse delle altre verdure insieme ai fagioli, come il peperone, perché c'è dentro il peperone. La cipolla, proprio la cipolla viene messa in quantità anche importanti e anche una sorta di, come posso dire, non è un borlotto, è una, quelle che noi chiamavamo le fasolane, insomma un fagiolo molto grande. Ecco, simile ai bianchi di Spagna, appunto perché si chiamano bianchi di Spagna, però un fagiolo più grande, non il borlotto. Quindi panizza non solo nel Vercellese, non solo nell'Odigiano, non solo nel Cremonese, non solo nella zona Ligure con altre caratteristiche, non solo in Sicilia con caratteristiche ancora diverse, ma addirittura appunto in Spagna. Questa è la bellezza del cercare degli elementi comuni che uniscono il nostro universo. Cosa dobbiamo dire, oltre intanto che aspettiamo il tempo di cottura? Perché questa l'abbiamo fatta in tempo reale, perché ovviamente una carbonada non poteva essere fatta in tempo reale, ha bisogno di quattro ore di cottura e secondo me guardare me e la Maria Pia è quattro ore, qualcuno sarebbe venuto con cosonno. Ascoltami, fammi qualche cenno alla panizza Ligure, laddove noi abbiamo detto che al posto del riso subentrano appunto i ceci, vedete che subentra quello di cui c'è la posizione. Esatto, è una minestra più che altro, o una crema, una polentina, che però molto spesso assomiglia anche alla farinata, che viene poi cotta nel forno a legno molto sottile con l'olio extravergine e il rosmarino. La stessa cosa fatta anche però in Sicilia, che poi viene tagliata a fette e fritta, che è una roba meravigliosa, perché è proprio saporita e buona. I ceci hanno un alto valore nutrizionale, perché comunque hanno una parte come i fagioli proteica all'interno, oltre che avere tante altre proprietà nutrizionali. E poi ovviamente poveri, tutti potevano permetterseli di facile reperibilità e conservabilità nel tempo. Queste erano le caratteristiche del cibo di quei tempi, anche perché i metodi di conservazione erano o la salagione, o la fumicatura, o l'essicazione. Punto. Perfetto. Persegani stava, sta appunto insistendo sulla conservabilità. D'altra parte è anche uno dei quattro piatti scelti per i pellegrini della via Francigena. Però intanto appunto che cuoce, allora per quanto riguarda la conservabilità e la tradizione in Liguria di fare appunto la panissa con i ceci. Ecco c'è appunto un aneddoto storico, per il quale durante la battaglia della Meloria, che vide Pisa contrapposta Genova, siamo negli ultimi decenni, nel 1200, un'imbarcazione genovese che trasportava dei prigionieri pisani venne colta da una grande tempesta. Una tempesta che impediva di raggiungere la riva e che mise a dura prova appunto i poveri che dovettero sostare finché la bonaccia appunto non prevalse. C'erano delle scorte di cibo nella stiva, scorte di cibo che per le intemperie pesantissime certamente in gran parte andavano perse. Soltanto un ingrediente rimase e sembrò che rimanesse indenne e cioè dei ceci. Indenni no perché si mescolarono all'acqua appunto salata. Contemporaneamente, vedete l'aneddotica come è fatta, la tempesta, la rivalità, i prigionieri, bisognava anche cibarli perché non arrivassero tutti morti e i prigionieri erano un valore aggiunto della vittoria. I ceci subirono l'acqua di mare ma nel frattempo da un'altra botte uscì anche dell'olio ed ecco appunto che si venne a formare quella che io ho detto polentina e lo chef ne ha tenuto buona di questa terminologia. Una poltiglia, una poltiglia appunto non così appetitosa perché immaginate freddo ma alla fine chi sovrintendeva quella che potremmo definire cucina di bordo ma c'era chi cucinava, chi dava le razioni eccetera non le spose al sole. Non avevano certo delle cucine. Quando il sole tornò e le persone erano sfinite questa poltiglia messa appunto al sole si trasformò in una croccante come la possiamo definire pietanza. Ecco che i genovesi sfruttarono la scoperta così come per retorica attribuiamo appunto a Genova sostituirono all'essicamento al sole la cottura e le diedero il nome di oro di Pisa che poi propinarono e riuscirono a vendere a caro prezzo insieme appunto alla ricetta che diventò farinata. Quindi un aneddoto che è pertinente per quanto riguarda la conservazione del cibo per esempio i ceci. E per come poi per episodi accidentali molto mitizzati, in realtà c'è dietro sempre una sagace sapienza, ecco questi ceci a bagno nell'acqua salata mescolati con un po' d'olio crudi terribili ma messi al sole diedero luogo a qualcosa appunto che poteva essere piacevole e anche che avrebbe contribuito a non far morire tutti e questo era l'oro di Pisa. Pensa se invece di una tempesta d'acqua avessero avuto un incendio e l'olio si fosse scaldato avrebbero fatto i ceci fritti che sono buonissimi. Proprio i ceci o la pasta? I ceci, i ceci secchi e i fritti e poi i salati sono buonissimi. Adesso ce la facciamo insieme. Non sono mai arrivati nella tavola bariggiana questi ceci fritti? No, 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 tu non mi hai mai suggerito niente perché gli chef sono sempre molto parchi, no? Quando sono così sì ma altrimenti ne hanno pochissime indicazioni. Però lo stesso principio di quella che abbiamo chiamato polentina è proprio all'origine poi della ricetta siciliana alla quale alludeva e che è appunto buonissima. Ti fermo solo un secondo perché ne approfitto per mantecare burro e formaggio, quindi ovviamente noi usiamo del parmigiano buono e del burro buono e andiamo a mantecare. Avete visto che io ho spento il fuoco qualche minuto fa, si fa sempre questa operazione giù dal fuoco e si manteca in questo modo. Deve formarsi questa crema fantastica che fa cambiare colore anche al riso ma che lo rende anche cremoso come siamo abituati a mangiarlo noi adesso. Prima si faceva riferimento a una poltiglia. Pensate che anche il Petrarca, poveretto Savagninta in certi aspetti, ha definito i pisserei e fasoi una minestra fangosa e poltigliosa, immangiabile. Sono diventati il piatto ovviamente simbolo di Piacenza e provincia, quindi capite bene. Mentre adorava i tortelli con la coda. Stiamo parlando del Petrarca. Aveva delle altre competenze. I gusti non si discutono, no? Probabilmente come facevano una volta i pisserei aveva anche un po' ragione lui, però andiamo ad impiattarla. Io adesso farò l'impiattamento su questo bel piatto con delle foglie di insalata che un po' rievocano quello che c'era insomma all'epoca. Ecco, quando noi facciamo questo tipo di risotto, perché io l'ho fatta non a minestra ma a risotto, e vogliamo far trasparire bene il chicco, far uscire bene il chicco, andiamo a battere sul foglio. Non fatelo voi con tale facilità perché potrebbe risultare disastroso. E poi far dare il giaffon sotto al piatto? Eh, ma dare degli schiaffi poi può dare... No, non è violenza, c'è da far uscire il chicco e tu ti la urli, è violento, messo a me. Sì, questa esuberanza non mi piace. Preferisco la dolcezza e la mitezza, ma determinata. Dipende, io l'ho vista in situazioni dove la dolcezza e la sua mitigazione non erano molto presenti. Allora, ha un profumo meraviglioso, c'è il riso, ecco, quindi la panissa, come l'abbiamo proposto, non me la faccio neanche assaggiare ma pazienza, ha l'omellina appunto l'accezione del riso. Però ricordiamoci che prima del riso c'erano degli altri cereali, per esempio il miglio. Chi oggi può cucinare con il miglio? C'è qualcuno che cucina il miglio? No, ma erano cereali che erano ad uso comune. Pensando ai ceci e alla Liguria già abbiamo un'altra ricchezza, un'altra fonti, ma il miglio no. Apro il bisturi sterile, prego. Ma non me la lasci uscire la porchetta, eh? Deve essere un po' violetta quando la toglie. Allora, di solito si comincia, quando si dovrebbe, si comincia dal bordo perché noi abbiamo una percezione dei sapori che va, quando li sentiamo bene, dai 50 ai 15 gradi. Al di sotto cominciamo a sentire meno perché le papille gustative si intorpidiscono, al di sopra sentiamo assolutamente ancora meno perché vengono scottate. Sentiamo solo se è dolce, salato, acido, amaro, ma non percepiamo gli aromi. Quindi la temperatura ideale per mangiare gli alimenti sarebbe attorno ai 50, al massimo 55 gradi per capirne al meglio tutte le luce. Che si troverebbe in questo caso al bordo. Perché è dove si raffredda prima. Quindi anche le lasagne, è vero che abbiamo una fame quando le togliamo dal forno, però se aspettassimo quei 10 minuti e le mangiassimo dopo le gusteremmo molto di più. E' buonissimo e direi anche cotto naturalmente in maniera ottimale, ma anche, devo dire, seguendo la nostra narrazione. Quindi abbiamo aggiunto anche degli elementi narrativi tali perché il piatto potesse arrivare a cottura ideale e davanti appunto a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo riusciti. Il pellegrino si ferma in Lomellina, lo lasciamo lì un anno, un anno e mezzo, e poi dopo vedremo dove andrà a finire. Adesso, se questo vuol dire i tempi in cui lo Sheppard Segani ritornerà a operare per noi, vuol dire che sono tempi lunghissimi. No, allora... A volte ci si spostava d'agio, eh? Io ne approfitto proprio per ringraziare Agustin Canto che dalla sua sala di regia permette questo collegamento in modo tale che i piatti del pellegrino siano arrivati non solo all'Uni3 ma a tanti altri, anche perché poi rimane appunto su Facebook. Però da molti mi sono arrivate sollecitazioni per fare i più calorosi auguri a Daniele Persegani. Grazie. In altri momenti, quando non eravamo in una sala di regia, eravamo in presenza. Ma ci torneremo. Quindi non poteva fare quello che ha fatto qua, eh? Perché ogni situazione propone lati positivi, ma narrava. Ecco, diciamo che c'era un abbraccio corale in presenza per Daniele Persegani. Ed era un abbraccio che arrivava al cuore, che magari lo compensava anche di tanta fatica, di essersi speso tanto e di avere anche dedicato un poco di questo tempo all'Uni3 e a coloro che appunto ne sanno percepire e cogliere le qualità anche oltre a quelle che dimostra. E cioè quell'umanità che ha e che a volte deve nascondere per sopravvivere dietro una certa spavalderia, perché diversamente sarebbe oggetto di stalkeraggio continuo, no? Lo sono comunque. Ecco, lo sai comunque. Però l'Uni3 in questo senso lo comprende nel profondo e ti ringrazia. Grazie a voi. E ti fa tanti auguri di Natale a nome mio, con la speranza di rivederci a presente, chissà, a Carnevale per un solo piatto, un piatto solo per Pasqua. Ma certamente appunto a quest'altro anno. Io spero invece, intanto ricambio gli auguri da parte mia, ma anche da parte di tutto Augusto Incanto, che in questo momento è presente. Cioè a presenti. Quindi tutti, Alberto Cristian e tutto lo staff. Io spererei di poterlo fare invece con un'affluenza tale per cui vorrebbe dire che siamo usciti da questo tunnel, che ci chiude da un paio di anni e vuol dire che siamo tornati a vivere, a rincontrarci, a vederci deviso e non attraverso uno schermo, perché cambiano le percezioni, cambia il calore, cambia tutto. Arriva lo stesso, però arriva in un altro modo, attraverso uno schermo, per tanto che sia di alta definizione. Quindi ricambio ovviamente gli auguri a tutti i componenti, a tutti gli iscritti, al mitra di Fidenza, grazie, e spererei di vedervi però anche con le mani in pasta prossimamente. E io girerò con la bacchetta, anzi con la cucchiarella, come dicono a Roma, e vorrei vedere proprio la pia col grembione. Ma sembra che sia una roba improponibile. Io cucino e lui fa i cenni storici. Certo, va bene, facciamo questo scambio. Lo proponiamo e lo promettiamo. Questo scambio di ruoli, quindi io arriverò a fare l'epoca bariggiana con il mio leggio e pia invece metterà grembiule, cappello e... Cappello? No, hai il cappello? No, non ce l'ho, il cappello a televisione non si usa perché fa ombra, quindi non si può mettere, però un bel grembiule di sangallo ti ci vedrei proprio, guarda, così. Con collana di perle e sangallo, così ti piacerebbe. Assolutamente. Cioè un ritorno agli anni 50. La signora del dado, quello che c'è sulla scatola del dado, così. Io lo so, lo interpreto. No, ci sarà, però io cucinerò e tu... E uno pentò magari anche, col tacco, che bello. Eh sì sì sì, va bene. Grazie. Allora, auguri ancora Daniele Persegani e ne colgo l'occasione per tutte le persone, i soci dell'Unitrem, il caso in cui in presenza non si riesca ad incontrarci. Grazie. 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 Grazie.